Buon poveriggio a tutti e con un po' di emozione apro questo convegno sulla poesia a braccio, un tema a me molto caro, molto sentito, poi avremo modo di parlarne. Saluto e ringrazio davvero di cuore l'amico Ministro San Giuliano, il Presidente della Commissione di Cultura, l'altro grande amico Federico Mollicone, l'assessore del Comune di Rieti, Letizia Rosati, il Professor Polia, già mio collaboratore in quel di Rionessa e stimato antropologo. Ringrazio per la sua presenza il Segretario Generale della Camera, mi fa particolarmente piacere. I sindaci presenti, Marco Cossu, sindaco di Casperia, Giorgio Cortellesi, il sindaco di Amatrice, Emanuela Del Grande, sindaco di Santa Maria a Monte, Massimiliano Giorgio, sindaco di Monteriale, Francesco Lenni, sindaco di Cittareale, Achille Pacifici, sindaco di Posta, Giovanni Vallocchia, sindaco di Poggio San Lorenzo, Fabrizio Ferrante Carrante, assessore del Comune di Rariano. Saluto tra le autorità Marco D'Aureli, direttore del Museo della Terra, Stefania Baldinotti, vice direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, Anna Maria Abuzzi, dirigente del Ministero della Cultura, Emanuele Merlino, capo della Segreteria Tecchina del Ministero della Cultura. Salute e ringrazio per la loro presenza, l'assessore Rinaldi della Regione Lazio, i consigli regionali Berni e Nicolai, il vicepresidente della provincia di Rieti, Vito Paciucci e il commissario di Rieti, Maccari. Permettetemi di salutare anche due persone che non ci sono, due grandi poeti della nostra terra, a cui sono particolarmente legato. Uno è Aloisi Fortunato, che è stato un apripista di questa scuola, di questi nuovi poeti. Sono particolarmente legato a lui perché lui mi ha avviato al piaceri della poesia e per un caso fu lui che mi propose di entrare nella prima lista civica della storia politica della mia vita. L'altra persona che non c'è a cui dedico questo incontro è il mio bisnonno, che è stato un grandissimo poeta abbraccio, Giuseppe Trancassini, cavallo della fine dell'Ottocento e primi del Novecento e penso che sarà particolarmente emozionato e felice di questo incontro. Io dico veramente poche cose perché credo che la cosa più importante sia che parlino loro e soprattutto i poeti. Volevo spiegarvi perché ho pensato di dare questo titolo, improvvisamente arte e tradizione, perché la poesia abbraccio è questa, una cosa che si accende improvvisamente, quasi inaspettatamente per chi non la conosce. È una cosa che ti sorprende. Chi non è ferrato rimane sorpreso talmente la sorpresa che pensi che non sia vero, che non sia possibile che una persona possa improvvisare una poesia così bella, così immediata e così ricca di significato, perché i poeti abbraccio non sono schiavi della rima, mettono la rima a servizio del contenuto e tutto questo avviene improvvisamente. L'ottava rima, quindi un esercizio complicato, vende casillabi legati da rima a B a B a C a C. Insomma, ho pensato appunto di dargli questo tema come appunto l'arte dell'improvvisazione. Perché un convegno? Perché questo deve essere un punto di partenza. Noi stiamo facendo un grande lavoro, loro stanno facendo un grande lavoro, il Presidente Meloni, il Governo, tutti, sulla valorizzazione delle aree interne, che è un tema molto spesso abusato, bello, quando uno parla delle aree interne oggi si dà come se si mettesse un po' il vestito buono. Peccato che poi le aree interne hanno bisogno di essere, di avere un po' di luce, di avere attenzione, di avere fiscalità di vantaggio, tutti i temi che stiamo cercando di affrontare insieme a quello complesso e complicato della ricostruzione. Ma secondo me il tema delle aree interne è anche il tema della identità. Lo dicevamo con l'edizia Rosati qualche giorno fa a Rieti. Io per spiegare quanto secondo me è importante valorizzare le aree interne. Faccio su di me questa considerazione. Io ho due patrie, perché io sono nato a Roma e ho vissuto i primi anni della mia vita a Campo dei Fiori e Campo dei Fiori sviluppa il mio senso di identità e sono cresciuto politicamente in quel di Leonessa e Leonessa sviluppa il mio senso di identità. Oggi io mi riconosco e riconosco la mia identità a Leonessa. A Campo dei Fiori non la trovo più. Nelle grandi città non c'è più. Quindi oggi le aree interne sono quei luoghi nei quali ancora c'è viva l'identità della nostra nazione. E il veicolo della poesia a braccio è un veicolo identitario, è un veicolo di tradizioni, è un veicolo di contenuti importanti, di storie dei nostri padri. E quindi credo che sia molto importante accendere la luce su questo meraviglioso mondo della poesia a braccio, anche per evitare che si disperda. Perché la poesia a braccio è bellissima perché non è scritta, è orale, ma deve essere messa in sicurezza. Perché una cosa che è orale, se non è tramandata, se non è raccontata, se non è vissuta, se non è declinata, se non ha nuove generazioni, è una cosa che improvvisamente si perde e rimane nei ricordi di chi magari l'ha vissuta. Io penso che la nostra sfida sia questa, quella di valorizzare questo meraviglioso aspetto della nostra identità, che spazi ovviamente per tutta l'Italia centrale, ma poi lo vedremo un po' per tutta l'Italia, va conservata, va messa in sicurezza e questo è il motivo per cui noi siamo qui. Comincerei con i saluti dei poeti, perché insomma siamo qua con loro, quindi sono molto rigido, quindi vi stacco la spina perché loro poi quando cominciano a cantare non si fermano più, ma noi abbiamo tempi molto molto stretti. Quindi chiederei, comincerei con Alessio Runci di Tersone di Leonessa, di venirci a fare un saluto di un canto di saluto e poi via via canteranno anche agli altri. Grazie. Se spetta a me fare gli onori di casa, io vi ringrazio di questi favori. Spero che il cuore in mente mia travasa tutti i sentimenti e i suoi valori e poi la musa dalla bocca evasa che vi faccia ascoltar versi migliori. Perché la bocca, il cuore, la fantasia sono gli artefici della poesia. Se voi venite nella terra mia, che per molti rimane sconosciuta, ritroverete questa melodia, la voce del poeta vi saluta. E troverete affetto e cortesia come fosse una grazia ricevuta. Per tanto non perdete l'occasione, vi aspetto a braccia aperte al mio Tersone. Bravissimo, grazie Alessio. Stefano Prati di Lariano. Omaggio vada all'organizzazione. Sono Stefano Prati dei Castelli e le saluto tutte ste persone e spero ritrovare momenti belli. E spero ritrovare tanto coraggio. Son vostro servo, mando il mio messaggio. E con la poesia vi rendo omaggio. Vo' ricercando l'angolo nascosto. Perché fin da bambino ho preso il viaggio quando che lessi Ludovico Ariosto. E cerettamente non è il suo linguaggio. Perché lo so sono di un altro posto. Un caldo abbraccio con il cuore in mano e ve lo porto il saluto da Lariano. Grazie. Marcello Patrizzi di Montereale. La tradizione viene da lontano. è figlia di pastori e del passato. E però ha proseguito piano piano e ad ascoltarla spesso che ci ha incantato. Speriamo che l'intervento non sia vano. Vorrei ridare a questo canto il fiato. perché ancora prosegua il suo viaggio con la forza più antica e il suo coraggio. Se voi venite su nel mio villaggio, tra i verdi monti dell'Alto Aquilano, pur la natura ve lo dona un saggio di questo canto mistico ed arcano. Io qui quest'oggi vi dono un assaggio e ve lo dono con il cuore in mano. Sperando sempre il canto spieghi l'Ale, porto il saluto a voi da Montereale. Grazie. Felice Vanni, Terzone, Leonessa. Sento l'alta passione che nel cuore geme e si rispecchia in noi l'usanza nostra. Si rinnovella dentro, il cuore la speme e si rinnova quell'antica giostra. Orché ci ritroviamo tutti insieme, ciascuno a modo suo farà la mostra. Perché, signori miei, la poesia è un capitale della fantasia. È ormai passata già la vita mia e che fardebbo in mia maniera espressa. Ho seguito negli anni questa via come cantore della mia Leonessa. Spero nel tempo non mi fugga via. Felice queste cose le confessa. E lo dico con tanta commozione. porto i saluti qua dal mio Dersone. E chiudiamo questa carrellata con Emilio Meliani di Santa Maria a Monte Pisa. di salutarvi io colgo l'occasione. Vengo dalla regione del Boccaccio dove Fiorente fu la tradizione dei cosiddetti poeti abbraccio. Cerco di stare nel cuore l'emozione. I nostri versi non sono mai a casaccio. Siamo gente del dir molto decisa quando ci viene chiesto si improvvisa. Un saluto dalla grande Pisa La rima amici va sempre ripresa Che sia data giusta e assai precisa Per chi l'ascolta è sempre una sorpresa Se di poeta indosso la divisa Corso il leon giammai quella mi pesa Perché la poesia è pace e amore e porta refrigerio in ogni cuore Bene, bene, bene. Insomma, si sono presentati e poi alla fine dei nostri interventi faremo tracciare a loro le conclusioni. Saluto altri poeti presenti Marco Calabrese di Posta Mario Ciaralli di Amatrice Giampietro Giamocante Agnese Monaldi di Allumiere Salvatore Trancassini non dico da dove viene Pietro Benedetti di Tuscania Allora, professor Polia, Mario ma tutto questo da dove nasce? Come comincia la storia della poesia? La storia della poesia abbraccio comincia dal sentimento dei nostri pastori i quali vivono nell'ambiente naturale amano la natura e approfittano del silenzio dei pascoli montani la loro vita, la loro cultura e in tessuta di poesia nella loro bisaccia la catana insieme al pane e il formaggio portavano vecchie edizioni del Ludovica Riosto e del Torquato Tasso chi sapeva leggere leggeva ad altavoce chi non sapeva leggere e più non lo sapevano imparavano da chi parlava la memoria dei nostri poeti è altissima come la memoria degli antichi poeti la poesia abbraccio assomiglia molto alle sorgenti delle nostre montagne esce spontanea l'acqua sgorga cantando ricorda quello che diceva Platone a proposito della poesia a proposito della parola la scrittura cristallizza il pensiero nella scrittura viene perso l'elemento emozionale il gesto il tono della voce l'espressione del volto del poeta la poesia abbraccio è questa è acqua che sgorga limpida dalle fonti montane e queste fonti sono i cuori dei nostri poeti la poesia scritta funziona certamente ma se dovessimo un giorno conservare le tracce dei nostri poeti abbraccio che poi dopo aver parlato improvvisano quindi non sempre ricordano tutte le ottave forse sarebbe utile usare i nostri moderni mezzi di registrazione sia visiva che canora la canzone la musica è inscindibile dalla poesia le forme solenne della poesia sono sempre accompagnate dalla musica in qualche modo così anche nelle funzioni solenne le scritture vengono nel Vangelo viene cantato è una forma solenne e la poesia abbraccio ornava le feste dei paesi le nostre feste erano ritorno all'età dell'oro un giorno in cui non si lavorava si stava insieme si raffermava la propria identità attraverso il culto dei santi attraverso il ricordo delle gesta degli antenati attraverso la celebrazione della natura la mietitura ho fatto faccio all'antropologo quante volte ho intervistato i vecchi che mietevano nei campi curvi sotto il soleone dalla mattina fino a che il sole tramontava un lavoro durissimo e la gran parte di loro mentre mi raccontava di quei giorni infuocati e caldi di quei giorni stupendi piangeva ma rimpiango quei giorni mi dicevano in palnerina rimpiango quei giorni perché il lavoro era una parte della vita ma la festa era intessuta il lavoro era proprietario alla festa era la festa del raccolto così come sui pascoli portare al pascolo le pecore o le capre faceva parte della vita del pastore era un inno di gioia noi siamo abituati al lavoro duro non più accompagnato dalla poesia il loro lavoro era accompagnato passo passo dalla poesia questo posso dire il resto la poesia abbraccio non può essere fossilizzata non può essere cristallizzata nasce sul momento ma nasce da un cuore che risuona profondamente con la natura quante volte e con questo concludo mi sono trovato pochi anni addietro a sentire dei contadini pastori ex pastori contadini che si sfidavano recitando uno qualche verso di Dante poi fermandosi e l'altro continuava il culto per la poesia fa parte della mentalità del cuore profondo del pastore ecco dunque la poesia abbraccio nasce dal cuore e passa immediatamente attraverso il pensiero usando la materia più rarefatta dell'artista l'aria l'etere è così genuina come un fiore di montagna come l'acqua che svolga dalla fonte la poesia scritta funziona certo ma è un po' come l'acqua imbottigliata grazie grazie a professor Polia Assessore Rosati insomma che ci possiamo fare con questa poesia abbraccio che in provincia di Riedi che a Riedi insomma è così viva e abbiamo anche molti molti giovani che oggi non sono presenti ma non è insomma è di grande prospettiva bisognerebbe però in qualche modo cogliere qualche occasione per valorizzarla e magari Comune di Riedi che è un po' più grande dei piccoli comuni può fare qualcosa sicuramente sicuramente innanzitutto buonasera a tutti grazie grazie per essere qui porto i saluti del sindaco di Riedi Daniele Sinibaldi che in questo momento è a Bruxelles per altri impegni istituzionali ma sicuramente tutta l'amministrazione è contenta di questo invito e di questa opportunità per tante ragioni beh innanzitutto perché io ritengo che iniziare questo festival e questa rassegna nel nostro teatro Flavio Vespasiano di Riedi sia qualcosa di altamente simbolico e significativo per diversi motivi beh il nostro teatro è stato dichiarato da pochi giorni monumento nazionale e questo ci ha inorgoglito moltissimo perché ci siamo sentiti parte della grande bellezza italiana noi che siamo l'Italia minore l'Italia delle zone interne come si ha detto l'Italia appenninica di quelle città medie che sono sempre in ombra perché ci sono le grandi città d'arte che giganteggiano e chiaramente ci schiacciano bene con questa notizia ci siamo sentiti veramente parte di un progetto che ci fa sentire tutti figli della grandezza e della bellezza italiana di cui siamo sicuramente tutti molto fieri ed orgogliosi altrimenti non saremo qui questa sera quindi iniziare nel mese di novembre per esempio e lanciare da Riedi proprio dal cuore, dal centro d'Italia iniziare questa esperienza che non vuole essere solamente una documentazione di una realtà che persiste, che permane ma vuole essere proprio un punto di lancio e di rilancio perché ormai credo è noto a tutti nel 2026 noi saremo al fianco dell'Aquila come capitale della cultura in un grande progetto che vuole raccontare la forza l'identità, la bellezza, il valore, la ricchezza appunto delle aree interne di questa area vasta dell'Italia appenninica di cui tanto si parla e che poi spesso poco si sa ecco noi abbiamo un'occasione storica quella finalmente di raccontarci di raccontarci, di raccontarci all'Italia e di dire che esiste anche una fetta di questo paese che tante volte non ha avuto spazio ecco il tema del cantabraccio può essere quello uno di quei filoni forti, interessanti, originali che ci connota, che attraversa come Ulfirruge proprio tutta l'Italia appenninica porto semplicemente un dato se volete ma nel cuore della provincia di Rieti c'è l'Abbazia di Farfa una fondazione benedettina di età paleocristiana quindi molto antica che aveva possedimenti enormi, importantissimi in tutte le zone interne attraversando l'Aquilano fino ad arrivare al Mar Adriatico proprio per la transumanza dove questi pastori praticavano il cantabraccio come momento di coesione sociale come momento veramente importante del loro stare insieme ecco per dire quanti elementi hanno lasciato sicuramente attraverso i monumenti l'architettura il segno di questo massaggio ma poi c'è una cultura orale come si diceva prima una cultura che magari non ha trovato spazio nei grandi trattati della cultura o dell'arte ove però questi pastori, questi cantori declinavano i grandi poeti della letteratura italiana è sorprendente vedere e sapere attraverso le memorie che ci restano come persone con un livello di istruzione semplice essenziale sapevano a memoria le opere appunto di Orlando Furioso o la Gerusalemme Liberata quindi attraverso di loro passava in quel mondo la cultura alica quindi credo veramente che iniziare da Rieti questa esperienza e portarla avanti anche negli anni successivi nel 2026 in modo particolare sarà un valore aggiunto che darà forza a questo grande progetto di capitale della cultura che vuole lasciare un segno per dire che anche noi ci stiamo noi ci siamo e abbiamo tanto da raccontare quindi per questo vi ringrazio e sicuramente il nostro teatro vuole essere il testimone la madrina di questo inizio grazie grazie all'assessore Rosati insomma mi sembra che l'idea del primo festival nazionale della poesia abbraccio in quel di Rieti è particolarmente suggestivo e prima di darti la parola Federico permettimi di ringraziarti nella tua veste di presidente della commissione cultura insieme al nostro capogruppo Foti per aver dichiarato il teatro Flavio Vespasiano il primo monumento nazionale è stato un riconoscimento importante noi sappiamo che il nostro teatro è molto bello è una grande storia però insomma devo dire che fino adesso non se ne era accorto nessuno praticamente quindi ci fa particolarmente piacere Presidente Mollicone e quindi con la poesia abbraccio che facciamo? Grazie grazie al questore Trancassini anche amico storico e antico per questa opportunità per aver riscoperto una delle forme più antiche e popolari della poesia e della cultura italiana le più antiche registrazioni di poeti abbraccio che ci siamo pervenute risalenti al 48 sono ad oggi conservate pensate negli archivi di etnomusicologia della Bibliomediateca dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dimostrazione della loro relazione anche con la musica la musica cosiddetta alta e colta e a dimostrazione anche dell'importanza che il mondo scientifico sta riservando alla poesia improvvisata voglio riservare uno spazio di approfondimento da passionista il passionista è infatti il termine con cui nel mondo dell'improvvisazione poetica in ottava rima si indica l'appassionato che segue con entusiasmo i poeti abbraccio spesso registrandone gli improvvisi in quanto prassi improvvisativa nella quale i contenuti sono ogni volta composti ex novo nel corso del contrasto questa non poteva essere ricondotta agli stornelli strambotti e rispetti basati invece su frammenti poetici ricorrenti e memorizzati sebbene questi siano paragonabili all'ottava rima per l'impiego dell'endica sillabo per l'uso di cantare a contrasto e per la tecnica combinatoria di versi e rime stupisce quindi che i primi etnomusicologi che l'hanno presa in esame siano stati colpiti in particolare proprio come abbiamo ascoltato dalla sua stretta vicinanza con l'uso di memorizzare poemi quali l'Orlando Furioso la Gerusalemme Liberata o la Pia dei Ptolomei ad esempio di questo una sola strofa dell'Orlando Furioso lo strano corso che tenne il cavallo del Saracino per il bosco senza via fece che Orlando andò due giorni in fallo né lo trovò né poté averne spia giunse ad un rivo che parea cristallo nelle cui sponde un bel prater fioria di nativo color vago e dipinto e di molti e belli arbori distinto come sentite l'assonanza la musicalità è la stessa e la stessa che per secoli si diciamo portarono avanti come diceva anche Polia e il professor Polia i pastori nel leggerlo nel saperlo a memoria spesso appunto accompagnati dal ciaremello dell'organetto l'improvvisazione traeva proprio l'ispirazione della propria esperienza trattando con l'ironia il sarcasmo i temi più disparati da quelli popolari a quelli partivano da quelli colti arrivare a quelli popolari la naturalità della poesia estemporanea di Ottava Rima consiste dunque nel rapporto disgregante riaggregante con la lingua convenuta della cultura e con i suoni articolati di cui l'umano si serve per pensare e per rivivere nel mondo con gli altri esseri viventi è questa stessa naturalità che ne ha reso possibile persistere attraverso i secoli talvolta carsicamente talvolta in modo più evidente venendo a patti con la modernità ma senza che questa diventasse una condizione necessaria della sua esistenza i suoi ambienti ideali come abbiamo sentito sono i convivi ma l'improvvisazione poetica in Ottava Rima ha saputo adattarsi nel corso della storia ai contesti più vari al palcoscenico persino ai social network e importanti sono proprio i festival citati nel Reatino e nel centro Italia la poesia estemporanea in Ottava Rima ancorata a propri ecosistemi non ancora svuotati da quella che era l'omologazione culturale a cui siamo soggetti di cui parlava anche il collega Trancassini gode di una propria vitalità nel plasmare le relazioni tra chi la pratica e chi la ascolta non si canta in Ottava Rima se non ci si presta a prendere parte a una performance caratterizzata da una tonalità emotiva sostanzialmente di gioco e ludica nel territorio nazionale sono diffuse in maniera capillare una molteplicità di pratiche performative che rientrano proprio nell'ambito del cosiddetto patrimonio immateriale conoscenze tecniche che uniscono comunità a sapere vivo e proprio su questo per rispondere al collega Trancassini il Parlamento sta dando la luce alla prima legge nazionale sul patrimonio culturale immateriale già votata all'unanimità qui alla Camera che unisce il patrimonio immateriale e la rievocazione storica e che la prossima settimana verrà votata all'unanimità anche al Senato legge che nasce proprio da una proposta a nostra firma in collaborazione con il Ministro San Giuliano il Ministero il Sottosegretario Mazzi e gli uffici che si occupano del patrimonio immateriale abbiamo introdotto infatti una delega al Governo per normare il patrimonio culturale immateriale e ricepirlo rispetto al codice dei beni materiali dei beni culturali immateriali lo Stato quindi riconoscerà il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui le comunità locali e la comunità nazionale assegnando rilievo alle prassi alle rappresentazioni alle espressioni alle conoscenze alle competenze nonché agli strumenti agli oggetti agli manufatti agli spazi culturali associati agli stessi che le comunità i gruppi e gli individui riconoscono quanto parte il patrimonio culturale quindi sicuramente la poesia abbraccio vogliamo garantire quindi conclusione la trasmissione lo scambio delle conoscenze delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale identitario quali espressioni proprio della creatività umana nella continuità tra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita e prevedere l'istituzione dell'elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale proprio a salvaguardia urgente di un elenco di buone pratiche per tutelare il patrimonio immateriale e con uno stanziamento di 400 mila euro saranno garantiti questi obiettivi il ministero della cultura attraverso l'istituto per il patrimonio immateriale sta già lavorando per la poesia abbraccio un patrimonio quindi è da salvaguardare su cui lavoreremo per garantire una specifica salvaguardia sosterremo quindi la proposta di avere rieti come città della poesia abbraccio la poesia abbraccio è per noi cultura alta e popolare al tempo stesso orizzontale perché accessibile a tutti e verticale per le grandi capacità di chi fa le tenzoni e usa l'ottava rima concludo con i versi di un poeta abbraccio che in uno dei momenti più bui della storia recente durante il covid ha composto un prestigioso omaggio al suo bisnonno di colpo tutto il mondo è chiuso fuori distanti senza baci e senza abbracci e nelle vie cessano i clamori in tutto il quotidiano fatto a stracci solo comparsa al posto degli attori silenti vanno in mezzo ai calcinacci è cancellato ogni altro ambire in testa la paura di morire Paolo Trancassini questo è un colpo bassissimo allora sì no non me l'aspettavo sinceramente dunque grazie per l'omaggio e Ministro San Giuliano prima di darti la parola permettimi di ringraziarti per due cose la prima per il lavoro istancabile che stai facendo per la valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale italiano molto spesso prendendo anche delle iniziative complicate difficili come quelle di Ferragosto insomma veramente per il coraggio che stai mettendo in campo e per la passione e per il lavoro ma poi ti voglio ringraziare a nome della nostra terra della provincia di Rieti per la sempre grande disponibilità che oggi hai dimostrato ancora una volta il Ministro aveva un impegno abbiamo alla fine è riuscito a ricavarsi questo spazio per essere qui oggi insieme a noi e quindi di questo davvero ti ringrazio tantissimo e sono convinto che la tua sensibilità culturale ci permetterà di fare delle cose importanti rispetto a questo che può sembrare un aspetto marginale della cultura io credo e mi traccio e ti do la parola che diciamo forme di arte come questa hanno bisogno di spazi per non morire hanno bisogno di essere ascoltati e non dobbiamo per forza inseguire lo share sempre e pensare che no la tv pubblica le strutture pubbliche debbono per forza poi magari con con roba anche di basso profilo però si riesce magari a tenere la gente incollata alla televisione noi dovremmo cercare secondo me di avere tutti quanti noi per primi qui in Parlamento un po' più di coraggio e accendere la luce e richiamare l'attenzione su questi su questi aspetti che come dimostra questa sala hanno suscitano attenzione suscitano amore suscitano veramente sentimenti importanti e questo non può accadere una volta nella vita perché si organizza un convegno dovremmo cercare di avere appunto un pochino più di spazio un pochino più di attenzione e io so che la tua sensibilità culturale ci darà sicuramente un grande aiuto grazie buonasera a tutti e complimenti ai poeti che ha ascoltato magari li inviterò anche al Ministero se mi è consentito per una loro performance per una loro esibizione beh io sono estremamente felice di essere qui insieme a voi ringrazio l'amico Paolo Trancassini per avermi invitato perché io ho sempre creduto nel valore della cultura popolare la cultura popolare è cultura autentica e del resto alcuni grandi intellettuali hanno sempre ammesso con grande onestà di essersi abbeverati alla cultura popolare pensiamo a Giambattista Vico che lo scrive chiaramente oppure in anni più recenti a Pasolini che esaltava spesso il valore della cultura popolare perché la cultura popolare significa autenticità e in un mondo che ci appare molto manipolato in cui si tenta di degradare le persone a mero codice a barre cioè all'essere consumatori perdendo una spiritualità una capacità propositiva il ritorno all'autenticità e all'identità rappresenta qualcosa assolutamente di forte di importante rappresenta innanzitutto un sentimento prima ancora che un elemento di ragionamento e di razionalità politica prima in alcuni dei poeti che si sono alternati ho sentito scandire parole che mi sono molto care il termine tradizione che significa legame alla propria terra al proprio essere alle proprie abitudini il termine identità noi non siamo degli individui capitati per caso nella storia noi siamo la risultante di una identità che si è sedimentata fondamentata in secoli di storia ciascuno di noi è come se portasse in sé il dna di un lungo passato che è entrato in noi stessi anche a volte noi non ce ne accorgiamo ma noi siamo figli di una identità siamo figli di un territorio nel nostro caso siamo figli di una nazione che ha una lunga storia alle spalle dicevo prima autenticità ma voglio ribadire la nozione di immaterialità vedete si dice molto spesso io lo vado ad asserire molto spesso che l'Italia ha il più grande patrimonio culturale del mondo e questo è vero noi abbiamo pensate 5 milioni di opere ne esponiamo soltanto 480 mila abbiamo la più grande diffusa rete di musei abbiamo i più importanti musei del mondo i più importanti parchi archeologici però la grandezza della nostra cultura e dei nostri beni culturali non è dato soltanto da beni materiali quelli che noi possiamo toccare con mano parco archeologico del Colosseo parco archeologico di Pompei Pestum oppure i musei come gli Uffizi il Museo Nazionale Romano la Galleria Borghese dove possiamo andare e vedere una fisicità della cultura la nostra cultura è data anche da tante immaterialità e che sono le immaterialità sono quelle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione spesso di padre in figlio e che valgono quanto i beni materiali vedete quest'anno abbiamo avuto un importante riconoscimento dall'UNESCO perché l'UNESCO ha riconosciuto il valore di bene immateriale dell'arte del canto lirico italiano che è stato riconosciuto bene immateriale dell'umanità perché mentre noi siamo qui in qualche teatro del mondo si sta provando un'opera lirica italiana perché ovunque in tutto il mondo siamo conosciuti per il nostro canto lirico io vorrei che la vostra poesia surgesse a questi livelli cioè assumere una dimensione che appunto sta a sottolineare il valore dell'immaterialità la bellezza è data da cose che possiamo vedere con gli occhi la bellezza è una nozione per me soprattutto una nozione filosofica che noi possiamo percepire con lo sguardo con gli occhi ma la bellezza è anche quello che noi possiamo ascoltare e che poi mette in moto i nostri meccanismi mentali e ci fa riflettere lo ha già detto l'amico Federico Mollicone presidente della commissione cultura noi saremo vicini alla poesia a braccio vogliamo essere vicini alla poesia a braccio cioè sostenerla con dati fattuali prima Trancassini ricordava la sua biografia anche io ho una biografia simile io sono nato nel centro storico di Napoli vicino alle mura greco-romane però mia madre che non ho più era di Agnone un piccolo paese del Molise che confina molto con l'Abruzzo per esempio è vicinissimo all'Abruzzo il paese delle campane e infatti la famiglia produttrice della campane è la famiglia di mia madre la famiglia Marinelli e quindi io conosco bene questi suoni queste abitudini perché anche io ho conosciuto quando ero ragazzino i pastori anzi mio nonno mi voleva voleva che andassi ad accompagnare i pastori perché era un modo diciamo appunto per conoscere le tradizioni e la cultura popolare e noi ci crediamo in tutto ciò noi pensiamo che questo sia un elemento un pilastro fondante della cultura infatti con Federico abbiamo lavorato per rafforzare le rievocazioni storiche lavoriamo per sostenere affinché ci siano forme di sestegno alle feste alle tradizioni popolari e lo faremo anche questo è un impegno preciso con la poesia a braccio poi per quanto concerne i rieti diceva Paolo Trancastini personalmente sono molto vicino di recente abbiamo acquistato l'edificio della Banca d'Italia per fare l'archivio e una struttura multimediale e in questi giorni abbiamo varato i grandi progetti dove finanziamo il Museo dei Sabini proprio in provincia di rieti quindi due segni tangibili concreti e non chiacchiere del nostro impegno grazie allora normalmente grazie grazie al Ministro San Giuliano normalmente quando si fanno incontri di questo tipo c'è sempre una persona deputata a trarre le conclusioni quindi riassumere un po' tutto quello che è stato detto e appunto concludere ora questo spetterebbe a me ma io invece mi sento di delegare due poeti perché una delle cose più belle che fanno i poeti a braccio è quando fanno le ottave a contrasto e cioè normalmente con un con un tema che normalmente è una contraddizione quindi luce buio bianco e nero insomma dei temi contrastanti uno se ne intesta uno l'altro se ne intesta l'altro e dialogano sostenendo le ragioni dell'uno e dell'altro e allora a me sembra che il tema di questa il macro tema di questo nostro incontro sia appunto il tema dell'entroterra il tema delle identità il tema delle piccole realtà e allora forse noi potremmo chiedere a runci e a prati intanto di venire qui e di mettersi uno da una parte e uno dall'altra perché adesso dovranno discutere e quindi è bene che stanno lontani e uno di loro sarà il paese e l'altro Alessio di là uno sarà il paese e l'altro sarà la città quindi uno parlerà dell'importanza di essere città e dell'importanza di essere paese chi fa il paese? fai tu paese? allora paese runci prati città cominciamo col paese che è più piccolo svantaggiato quindi cominciamo forse per voi potrà sembrare strano quello che vi dirò del mio paese ancora si usa stringersi la mano ed aiutarsi nelle odierne imprese questo è un valore forte è vero è umano ogni gesto è nobile e cortese benché non siano i tempi più migliori ancora esprime al meglio i suoi valori ma in città c'è il valore dei pittori la città la cultura te l'apprezza e sa apprezzare anche quei pastori vedi gli arazzi di tanta bellezza ognuno può vantare i suoi signori so che a te la natura ti accarezza ma nel valore degli esseri viventi c'è la città con i suoi monumenti mi basta il rumor dell'acqua e dei miei venti l'alito dei prati a primavera credo che questo non ci son commenti immaginate voi l'atmosfera io ci vivo magichi momenti per me rimane sempre primavera non ho bisogno sai d'altra cultura perché il dipinto l'ha fatto la natura ma se vorrei vedere tanta bravura puoi visitare la cappella Sistina e guardare il Colosseo con le sue mura l'arte che nel frattempo ti è vicina è vero che l'è bella sta natura che l'armonia nel corpo ti trascina non è che io qui voglia fai il gratasso ma sono cose van di pari passo ripassati la iosto oppure il letasso riscopri i valori della poesia guarda il cielo non guardare in basso che pensi di cadere lungo la via a me mi basta guardare solo un masso per sprigionare la mia fantasia questa sai la cosa più divertente perché posso stimolare la mia mente ma guarda questa sala che è accogliente detta è la sala qui della regina e sembra i leggenti il sesso è trasparente che nella lunga storia ti trascina posso parlare io sono commovente questa della città è la medicina tu devi averti entrambi buona cura sia sai della città e della natura discutere non si può sulla cultura è talmente immensa la bellezza che pure colui che ha una vista oscura se si ferma a guardare tanto l'apprezza ma io amo quell'aria fresca e pura ammiro il prato pien di tenerezza sento l'odore di vermigli fiori che riempiono di gioia i nostri cuori conosco conosco la natura e i suoi valori e tante volte vengo su a leonessa a prender parte agli improvvisi adori questa fortuna par che mi è concessa apprezzo quella vita e quei valori e ce ne faccio sempre una scommessa o ringrazio i ministri dell'invito che questa sera è stato ben gradito so che tante volte sei salito anche per volere della poesia insieme abbiamo appagato l'appetito rispolverato l'estro e fantasia ma di cose vere tu ti sei nutrito ritornaci ancora e non andare via proprio per esaudire le sue imprese lascia la città e viene in paese lo so che quello ambiente l'è cortese e che l'è pieno di tanta accoglienza allora voglio vantare il tuo paese che c'è giustizia e pien di trasparenza ci passerei un giorno un anno o un mese questo lo dico sai con coerenza perché sai nella vita dei pastori quella che ritrovo dei valori se ti fermi a guardar vermi gli fiori che nascono sul prato a primavera se riesci a gustar tutti gli odori ti senti l'alma candida e sincera se guardi chi lavora e i suoi sudori frutto di impegno e della sua maniera non cercano certo la città più antica ma amano restare nella fatica spero la sorte non mi sia nemica mi ridona Cagliope la poesia che tramandata da un'usanza antica mi riporta nel cuore la vigoria quando il canto improvvisa fa fatica ma ci mette l'impegno e fantasia ma tu una cosa tienila a memoria che è la città che conserva la storia non ti vantare della passata gloria siamo non ti vantare della passata gloria dell'arte bella che tu in città la vedi io ne conservo sempre la memoria stasera questo spazio mi concedi noi siamo però gli attori di una storia di una tradizione che è ancora in piedi e lo dico col cuore e fantasia viva la gente viva la poesia grandissimi sembravamo sembravamo agli internazionali di tennis allora noi avremmo finito ma dato che questa si chiama la sala della regina io chiederei ad Agnese Monaldi di venirci a fare un saluto è una poetessa abbraccio di Allumiere buonasera il miracolo della poesia che unisce tutta quanta questa gente io dal mio cuore non la mando via e nei versi sono ben presente spero sempre che non fugga via ma la tengo così dolcemente perché voglio rimanere sempre insieme così che sboccerà quel bel gran seme poi posso continuare uno vorrei dire un altro modo di cantare io canto le sestine personali a tutti però adesso ne faccio magari una o due a voi così sentite anche quest'altro tipo questo è il modo mio di cantare e di portare al mondo tanta pace insieme noi potremo bene arare se noi saremo forti e anche audace e allora andiamo insieme a camminare il cuore ci dice tamo viva la libertà grazie allora salutiamo il ministro che è impegnato in cozione i ministri grazie a tutti quanti voi bravo